Non si sa fino a quando, ma a Valderice da qualche giorno è possibile l'utilizzo degli spazi di posteggio a pagamento, le famose strisce blu, senza pagare il relativo ticket. Sembra paradossale, ma è proprio così, visto che la ditta che gestisce il relativo servizio ha deciso di sospendere l'impiego degli ausiliari del traffico. La decisione sarebbe scaturita dalla presa di coscienza di non poter continuare a gestire in perdita il servizio e quindi dall'esigenza di richiamare l'attenzione dell'amministrazione ad una necessaria rivisitazione degli accordi contrattuali in essere. La denuncia di una simile situazione viene fatta oggi dal consigliere dei popolari per Valderice Giuseppe Martinico, che non ha posto remore per un attacco all'amministrazione Spezia su una vicenda che sin dalle origini lo ha visto all'opposizione. Io credo che sul problema delle strisce blu a Valderice l'amministrazione Spezia ha fatto proprio un cavolavoro politico. Io sono stato fortemente critico sin dall'inizio, sin da quando l'atto deliberativo è stato portato in consiglio comunale, perché ritenevo che un atto deliberativo che per certi versi sconvolgeva le abitudini dei valdericini andava affrontato con più attenzione. Quindi magari si era anche necessario convocare cittadini, imprenditori, artigiani per vedere quelle che erano le esigenze del territorio, confrontandoli con quelle che erano anche le esigenze dell'ente. Questo non è stato fatto, anzi le devo dire che io sostenevo che bisognava affrontarlo in maniera più concreta e invece l'amministrazione si è approvato la delibera delle strisce blu in appena 8 minuti, perché hanno convocato un consiglio e dopo 8 minuti praticamente sono usciti dall'aula con l'atto deliberativo approvato. Il risultato qual è? Che a distanza di pochi mesi vediamo che praticamente gli accertatori non ci sono più, la ditta li ha ritirati, le macchinette funzionano, però dobbiamo dire questo ai cittadini. Qual è il motivo che la ditta ha ritirato? Perché la ditta lavora in perdita, se mi permette credo che ci sono poche ditte che possono sostenere o addirittura non ce ne sono ditte che possono svolgere un'attività economica in costante perdita. In questo momento la ditta lavora in perdita e quindi di conseguenza ha ritirato intanto gli accertatori, le macchinette sono funzionanti, quindi il cittadino può andare a mettere i soldi ma non ci sarà nessun accertatore che andrà a controllare il suo biglietto.